Wiki vuol dire veloce in hawaiano, ma per il mondo è sinonimo di wikipedia, in realtà dietro wiki ci sono tante cose. Il wiki è un software, il wiki wiki web è il database più semplice del mondo ed è un software che ha avuto la sua benedizione con wikipedia. In realtà wiki è anche wikimedia, che è un insieme di progetti, nove in realtà, ma è anche un insieme di associazioni, wikimedia foundation che è una fondazione mondiale che si occupa di wikipedia e dei suoi progetti mondiali e che ha anche una serie di chapter locali, tra cui quello italiano, perché no, wikimedia italia. Wikipedia è l'enciclopedia più grande del mondo che in questo momento conta più di 250 lingue e circa 10 milioni di voci in tutte queste lingue. è uno di nove progetti che si occupano di mappare tutti gli aspetti della cultura e di renderla libera, gratuita e accessibile a tutti.